...poiché non vi sono osservazioni della forma di pubblicità adottata per il proseguo dei lavori. Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resto conto stenografico. La seduta dell'ottava Commissione prevede l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotto mediante fusione nucleare. E' presente il professor Piero Martino, ordinario di fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. Ringrazio il nostro ospite e gli cedo la parola. Signor Presidente, signore senatrici e senatori, grazie innanzitutto dell'invito. Allora, ringrazio lei mi ha già presentato. Io lavoro a Padova, in realtà divido la mia attività fra Padova e Frascati in questo momento, dove svolgo il ruolo di responsabile di attività di fisica nell'esperimento DTT. E qui a Roma attualmente sono distaccato presso il centro interdisciplinare Segre dell'Accademia Nazionale dell'Incei. Io sono un fellow dell'American Physical Society. Questo credo sia un aspetto significativo, soprattutto per ciò che riguarda, e toccherò questi aspetti nel corso della mia conversazione, le relazioni internazionali. Allora, io vorrei iniziare, ho qui sott'occhio l'orologio, quindi cerco di essere estremamente attento, con una serie di nomi, forse in maniera un po' inusuale, sono nomi di battesimo, sono Giacomo, Francesca, Stefano, Andrea, potrei farne anche altri in realtà, ma questi nomi mi hanno colpito perché sono nomi di ricercatori italiani che ho avuto l'occasione di incontrare in una recentissima visita che ho fatto insieme al Presidente Romanelli negli Stati Uniti. Ve ne racconterò un attimo dopo, dove c'è un interesse molto forte nelle nostre attività di fusione. Ebbene, queste persone sono ricercatrici, ricercatori, che hanno studiato in Italia, che ora lavorano negli Stati Uniti, e come loro, tanti nei laboratori europei, tanti anche in Italia. Altri nomi, Lidia, Paolo, Matteo, sono studenti, ex studenti, che nei nostri laboratori e nelle nostre università hanno vinto, ad esempio, il premio per la miglior tesi dottorato nel campo della fusione, premio europeo per la miglior tesi 3, ben 3 studenti italiani. Allora, perché ho deciso di partire da qui? Perché in qualsiasi ragionamento che facciamo, io immagino che le persone siano la nostra più importante risorsa, sia per ciò che riguarda la fusione, ma direi in generale, credo, per l'avvenire di qualsiasi impresa scientifico-tecnologica. E venendo appunto a quello di cui oggi parliamo, vorrei anche ricordare che proprio in tema di persone c'è un filo rosso che in qualche maniera lega da Enrico Fermi ad oggi la fisica nucleare italiana, che per certi versi, se pensiamo in termini di energia nucleare, e pensando ad Enrico Fermi potremmo definire, forse con una piccola esagerazione, ma non troppo, come made in Italy. Bene, ecco, io vorrei partire da questo punto. Noi, nelle nostre università, nei nostri laboratori, stiamo formando i protagonisti del futuro. E questa rete è una rete davvero di notevole livello. Allora, voi avete sentito, nelle scorse settimane, in grande dettaglio, cos'è la fusione, avete sentito parlare di alcune tra le principali realtà italiane, l'ingegnere Dialuce, il professor Romanelli, l'ingegnere Monti, insomma, illustri colleghi vi hanno dato davvero molti dettagli sul tema. E allora, io vorrei evitare di ripeterli, sono molto importanti, ma appunto li avete già sentiti, vorrei invece provare a affrontare il tema del perché oggi, a mio giudizio, ha senso lavorare e sviluppare la fusione in Italia. Allora, parto da una considerazione generale, un cenno, ne siamo tutti consapevoli, che è il cenno dell'emergenza climatica. Abbiamo sentito molto parlare della COP28 e abbiamo sentito parlare, anche proprio dell'anno scorso, dell'aggiornamento dello scenario dell'Agenzia Internazionale dell'Energia sulle emissioni zero, quello scenario che dovrebbe portarci entro il 2050 ad azzerare le emissioni nette. Allora, se leggiamo con attenzione, ciascuno di questi scenari, io ne ho citato uno, ma ne trovate facilmente, ne conoscete molti altri, ciascuno scenario, lasciatemi definire robusto, serio, asserisce che quello che propone è una strada, non la strada, no? Una strada, non la strada, e perché? Perché chiaramente non ci sono soluzioni uniche. Sappiamo qual è l'obiettivo finale. Abbiamo l'obiettivo di arrivare al 2050 con emissioni nette pari a zero di fronte a un consumo di elettricità, una richiesta di elettricità che andrà via via crescendo e che dovrà essere supportata e provvista in gran parte, per frazioni fino al 90%, da energie rinnovabili. Cioè dobbiamo assolutamente arrivare verso un'economia elettrica. Lo scenario dello IEA dell'anno scorso, del 2023, definisce l'elettricità e il nuovo petrolio. È un dato di fatto. Occorre naturalmente considerare che oggi il 60% ancora dell'elettricità che usiamo è fatta da fonti fossili. E questo è decisamente un punto di partenza, chiaramente non banale. e per passare da questo 60% a zero, sostanzialmente, a fronte di una richiesta di energia elettrica che andrà crescendo, pensate a tutte le grandi applicazioni che si faranno dell'energia elettrica a partire dalla mobilità, la mia personale opinione è che non sia davvero possibile permetterci di lasciare da parte nulla di ciò che riguarda possibili soluzioni che siano libera da CO2. Se posso fare un esempio che magari riguarda molti di noi, abbiamo dei soldi da investire, dei risparmi da investire, difficilmente andiamo a investirli tutti in un'unica, tutti in azioni, tutti in obbligazioni, tutti in bot. Ma ecco, esatto, c'è la diversificazione, il Presidente mi ricorda. Alla stessa, un paniere, un portafoglio, ecco, io ho l'impressione che anche per ciò che riguarda l'energia sia fondamentale costruire un paniere, cioè qualcosa che non trascuri nulla. Un paniere naturalmente libero da CO2. E quindi qui direi che vorrei arrivare alla mia prima parola chiave, articolerò il discorso attraverso una serie di parole chiave. Quello che stiamo facendo, noi nelle università, negli enti di ricerca, immagino tutti noi, non è tanto una sfida contro. Il mondo non ha davanti una sfida contro rinnovabili, contro nucleare, pubblico, contro privato, pragmatismo, contro creatività, tutti contro che volete. No, la nostra deve essere una sfida per. E quindi il mio primo punto, la mia parola chiave iniziale, è quello di alleanza. Ci deve essere una forte alleanza fra tutti gli attori coinvolti. Da questo punto di vista sono veramente contento, la ringrazio, vi ringrazio per questa iniziativa, preziosa, perché tutti insieme dobbiamo lavorare per un'alleanza, per un futuro sostenibile. Ecco, ebbene, in questa alleanza, in questo paniere, in questa diversificazione, l'energia elettrica di origine nucleare è una parte significativa di questa risposta. E anche qui è bene chiarire, perché questo è un equivoco in cui spesso si cade, di pensare l'energia nucleare come un'alternativa ad altre possibilità, come le rinnovabili. Assolutamente no, sono assolutamente complementari. Noi sappiamo che tutti gli scenari prevedono una grande maggioranza di energie da fonti rinnovabili, ma il nucleare è la polizia di assicurazione. Cioè è quello che consente sostanzialmente una transizione sostenibile da un punto di vista ambientale e finanziario, perché noi dobbiamo tenere presente che la transizione deve essere fatta, ma deve essere fatta anche in maniera sostenibile per ciò che riguarda le economie, a partire da quelle dei paesi, ma per arrivare anche a quelle dei cittadini. E il nucleare ha questa grossa funzione di ridurre i rischi. All'interno di questo, la fusione, di cui oggi parliamo, arrivo al nostro punto fondamentale, è indispensabile, a mio giudizio, per una transizione energetica che sia allo stesso tempo sicura e sostenibile. Quello che sto dicendo, tra l'altro, per la fusione, ma in generale, per i nuovi sviluppi dell'energia nucleare, è qualcosa che, almeno i sondaggi, le indagini, ci dicono che comincia ad essere colto. C'è un interessante sondaggio della SWAG, che senz'altro avrete visto, dell'ottobre del 23, che, devo dire, anche con una certa sorpresa, da parte mia, evidenzia come oggi solo un italiano su quattro sia apertamente contrario al nucleare. E questa percentuale, l'altro aspetto che a me ha colpito molto, i giovani, come il Presidente mi ricorda, tra i 18 e i 34 anni questa percentuale scende al 18%. E questo va fatto i conti. Nel 2050, chi oggi ha 18 anni, ne avrà 45, 46, cioè sarà nel pieno della sua vita. Quindi sono le persone che andranno davvero a vivere quello di cui oggi stiamo parlando. E l'altro aspetto interessante che emerge da questo sondaggio è che l'informazione è cruciale. Chi è al corrente delle nuove tecnologie è in larga maggioranza favorevole. Un aspetto fondamentale sul quale non nego anche la mia comunità, spesso è stata carente in passato e sulla quale stiamo lavorando, è quello della trasparenza, della conoscenza, dell'informazione, della divulgazione. Ancora una volta vi ringrazio per l'occasione che ci date. Quindi la fusione rientra all'interno, secondo me, di un percorso di lungimiranza, di un'altra parola chiave fondamentale, che ci permette di immaginare quale sarà il futuro delle nostre scelte energetiche. Allora, sono abbastanza sintetico e vorrei poi, soprattutto, mi auguro rispondere alle vostre domande. Finora ho posto l'accenno sul fatto di quanto, parlando anche della COP, la transizione energetica sia una questione ambientale. Ma, naturalmente, sfondo una porta aperta ricordando che oggi in realtà è una enorme questione strategica. La guerra in Ucraina è purtroppo lì a ricordarcelo quotidianamente e anche ciò che succede in altri settori del mondo, sempre legato all'energia. È una questione economica, finanziaria. Pensate a cosa vuol dire, soprattutto, verso i paesi in via di sviluppo, verso i mercati asiatici, la transizione ecologica, un passaggio all'elettrificazione molto forte. Sono opportunità enormi per chi dispone della conoscenza. E poi, lasciatemi aggiungere un tema che mi sta a cuore, è anche una questione di giustizia. al termine di giustizia, di etica, nel tema della transizione energetica, sta emergendo fortemente in molti ambienti. Sapete che ci sono circa 800 milioni di persone che ancora non dispongono di energia elettrica. E, se volete, oltre a qualsiasi questione importantissima questione etica, anche questo si ripercuote su questioni strategiche. Pensiamo anche al grande tema delle migrazioni e comunque al tema di quanto la carenza di energia può significare poi verso l'Europa, in questo caso. Bene, la fusione, ancora una volta, è parte di questa risposta. Ha una grande tradizione di collaborazione internazionale, ha una potenzialità di combustibili diffusa, è estremamente sicura, ne avete sentito molto parlare appunto dai miei illustri predecessori, e, soprattutto, come ha specificato bene il professor Romanelli, la settimana scorsa, è giunto ormai un elevato livello di maturità. Abbiamo le teorie che confermano i risultati che noi otteniamo, abbiamo soluzioni che, come Romanelli ha citato, magari non sono perfette, ma ci sono, e siamo entrati, direi, in una fase di approccio di soluzioni industriali. Naturalmente, sempre accompagnate da un'intensa attività di ricerca, ma, come lui ricordava, siamo nelle condizioni, se ci sono le condizioni, se costruiamo le condizioni, di intraprendere la costruzione di un impianto dimostrativo di potenza. Cioè, siamo passati da una fase che ha caratterizzato molti anni, puramente scientifica, a una fase che è fortemente, oggi, anche pilotata dalla tecnologia e dalla possibilità di realizzare delle soluzioni che saranno poi implementate. E, d'altra parte, io sono solo, come dire, un modesto portavoce di quanto sta accadendo nel mondo, perché un altro aspetto fondamentale che dicevo anche Presidente nella mia presentazione, nella presentazione di me stesso, è anche l'attenzione a ciò che accade a livello internazionale e che ormai va ben oltre le mura delle università o dei centri di ricerca, ma è qualcosa che interessa le grandi economie. Non occorre che citi, ad esempio, le recenti dichiarazioni dell'inviato Kerry degli Stati Uniti, ma soprattutto l'iniziativa dell'amministrazione Biden-Harris che ha lanciato nel 2022 questa bold decadal vision to accelerate fusion, per accelerare la fusione. l'amministrazione Biden a Casa Bianca inserisce la fusione fra i pilastri di una transizione energetica. Negli Stati Uniti sono stati investiti negli ultimi due anni oltre 6 miliardi di investimenti privati, cioè di soldi che non escono dal bilancio federale ma dai privati. Giusto per darvi un'idea, perché 6 miliardi ovviamente possono essere tanti, pochi a seconda cosa li si paragona, ma il bilancio federale degli Stati Uniti non credo superi il miliardo all'anno, insomma, ecco giusto per capirci i dollari. Poi abbiamo la Cina, facciamo un salto in un altro grande attore. La Cina che sostiene con convinzione ITER il programma internazionale di cui vi parlerò brevemente dopo, ma che in parallelo sta sviluppando un forte programma nazionale. E anche questo è molto interessante, credo, dal punto di vista geopolitico, perché questo doppio percorso parallelo di una grande potenza come la Cina, che da un lato lavora con noi, ma dall'altro con le economie occidentali, si sta sviluppando il suo reattore dimostrativo da un gigawatt e mezzo, sta sviluppando una sorta di cittadella della scienza della fusione che si chiama Comprehensive Research Facility for Fusion Technology, cioè sta davvero investendo in maniera assai significativa. E poi, arrivando in Europa, l'Inghilterra, Gran Bretagna, che ha lanciato questo programma STEP con la sua agenzia che porta a un fortissimo coinvolgimento dell'industria, che nasce naturalmente anche a seguito della Brexit, in parallelo alla Brexit, ma che oggi ha assunto una rilevanza a livello europeo davvero importante. Poi vorrei citare un ultimo esempio, perché da qui mi collegherò poi al nostro caso italiano, perché secondo me è significativo. La Germania, nel corso dello scorso anno, insieme alla Francia, ha lanciato questa nuova iniziativa industriale che si chiama Gauss, Gauss Fusion, trovate il sito facilmente. È appunto un'iniziativa industriale che, se voi aprite il sito web, ha come dichiarazione di intenti principali di leading European industries to build fusion power plants, cioè di condurre l'industria, di accompagnare l'industria europea a costruire impianti di potenza di fusione. fanno anche un esempio di questo Giga Gauss Giga Kraftwerk 2045. Però a me è incuriosito, sembra quasi una battuta, Kraftwerk, È in tedesco, il sito è in inglese, ma è scritto in tedesco. Ed è un'iniziativa privata, ma supportata dai principali entri di ricerca tedeschi. Max Planck, prima di tutto, il Karlsruhe Istituto Technology. In realtà è davvero grosso, io ho avuto il piacere di lavorare sei anni a Monopi-Baviera presso il Max Planck, sono realtà di grandissimo valore. Il fatto che ci siano dietro ci deve far pensare. Se voi guardate recenti dichiarazioni della Ministra della Scienza e del Ministro dell'Economia e della Transizione Energetica tedeschi, vedrete il livello di supporto e l'aumento dei finanziamenti che la Germania sta mettendo sulla fusione. Ma l'aspetto che secondo me è estremamente importante è questa dichiarazione Leading European Industries, cioè la Germania sta, si è autodata una come dire una patente di guida a livello europeo. Peccato però che l'industria sia soprattutto italiana oggi della fusione. Peccato che in Italia stiamo costruendo uno dei più grandi esperimenti al mondo di cui avete sentito dal professor Romanelli di Titi. Peccato che in Italia ci sia il più grande laboratorio di ITER dopo ITER stesso a Padova. Cioè in Italia abbiamo una realtà di scienza, di tecnologia, di industria ENI ad esempio che è unica. Ebbene davvero vogliamo lasciare alla Germania la leadership su questo settore quando noi siamo partiti assai prima. E volevo quindi adesso arrivare a muovermi nella seconda e ultima parte della mia presentazione ricordando, cercando di giustificare perché ho fatto questa affermazione perché in Italia come vi ho detto abbiamo uno dei maggiori esperimenti al mondo in costruzione a Frascati qui a pochi chilometri che si chiama DTT. Ve ne ha parlato ampiamente il professor Romanelli la settimana scorsa quindi non entrerò anche nei dettagli ma vorrei ricordarvi che un esempio unico e pionieristico di alleanza tra pubblico e privato è un made in Italy questo diciamocelo con sincerità e anche con orgoglio che nasce nei laboratori dell'Enea è stato concepito lì nasce viene autorizzato nel 2017 grazie anche a un fortissimo interesse della Banca Europea degli investimenti e che oggi vede nella società consortile che lo sta costruendo la partecipazione dell'Enea al 70% e dell'Enea al 25% oltre ai maggiori attori come CNR INFN e Università bene è un esperimento cruciale questo dobbiamo saperlo per il programma Fusione Mondiale cioè quella dichiarazione di intenti che la Gauss fa noi la stiamo realizzando abbiamo un esperimento che risolverà dei problemi cruciali per lo sviluppo di un rattore attraverso DTT passa la soluzione di problemi che saranno fondamentali per i futuri rattori è una galleria del vento siamo stati pionieri su questo cioè questo diciamocelo no lo avevamo pensato prima degli altri paesi europei oggi vi dicevo all'inizio ho accompagnato il presidente Romanelli in queste visite presso i laboratori americani perché c'è un interesse ci auspichiamo si concretizzi al Dipartimento dell'Energia americano ad avviare collaborazioni con DTT con il nostro esperimento italiano DTT è un concentrato davvero di scienza di tecnologia di rapporti con l'industria e che avrà come finora già avuto alla fusione delle ricadute forti sulla nostra industria pensate vi è già stato detto alle commesse per circa 2 miliardi di euro che ITER questo grande collaborazione internazionale ha portato all'industria italiana ma pensiamo anche a quelle che ha portato la test facility di Padova alla formazione di nuove generazioni al fatto che questi impianti tipicamente la costruzione di DTT o di impianti simili portano ha circa ricadute di 4 volte l'investimento fatto sui territori e sul paese che li ospitano bene e poi avete sentito parlare l'ingegner di Aluce degli sforzi dell'Enea subito dopo di me ci sarà il dottor Fabris che parlerà degli sforzi del CNR abbiamo circa 650 ricercatori full time equivalent a tempo pieno in Italia a Padova c'è un grande laboratorio il più grande laboratorio di ITER dopo ITER stesso che costruisce la cosiddetta test facility per ITER c'è l'esperimento RFX sempre a Padova con grandi attività in termini di formazione sentirete appunto poi Stefano Fabris che vi parlerà nel dettaglio di uno grande sforzo che anche il CNR fa a Padova in altre iniziative come dicevo l'ingegner di Aluce vi ha parlato di ciò che fa l'Enea io vengo da un'università come quella di Padova che ha 800 anni che è un grandissimo pollo di informazione di formazione tra l'altro incidentalmente so che siete stati invitati a visitare i laboratori Frascati se volete estendo molto volentieri a nome del mio presidente direttore di Padova l'invito a visitare i laboratori di Padova dove c'è un grande esperimento appunto in costruzione e in funzionamento bene vado a concludere noi davvero possiamo inserirci in una dinamica strategica di rilevanza mondiale e allora vi do tre elementi rapidissimi le persone ho cominciato dalle persone vado a chiudere a partire dalle persone noi Padova l'università di Padova la Tuscia la Bicocca la Statale di Milano il Politecnico di Milano Torino il Politecnico di Torino Napoli Federico II Pisa Palermo Tor Vergata senza altro i miei colleghi mi perdoneranno se non ho dimenticato qualcuna abbiamo le principali università italiane che lavorano sulla fusione abbiamo 15 corsi di fusione di cui sei a Padova esplicitamente dedicati alla fusione universitari e 30 oltre 30 dedicate in tutte queste università tematiche che riguardano in generale la fisica della fusione della fissione nucleare della fisica nucleare abbiamo a Padova insieme Padova e Federico II di Napoli hanno un programma internazionale di dottorato che ha prodotto 130 dottorati dal 2010 all'Università della Tuscia c'è un programma di dottorato sull'energia e ambiente un terzo dei loro dottorati ha a che fare con la fusione borse in gran parte finanziate da aziende quindi davvero una fortissima collaborazione bene è bisogno e quindi c'è un grande livello di accordo tra istituzioni accademiche enti di ricerca su quanto la formazione sia cruciale per l'industria come ogni grande sfida tecnologica ha bisogno di pragmatismo ma non può fare a meno anche di creatività e conoscenza ecco vorrei dire e qui faccio mie delle parole prima della mia ultimo foglio di conclusioni faccio mie le parole al Presidente Repubblica per dire che la fusione oggi può essere davvero uno degli strumenti per passare dalla fuga dei cervelli alla circolazione dei talenti come il Presidente Mattarella ha detto il 2 giugno dello scorso anno quindi vado a concludere la fusione è chiaramente un elemento chiave della soluzione di un problema strategico oggi è un settore fiorente l'Italia ha seminato molto vogliamo davvero lasciare ad altri raccogliere quello che abbiamo seminato davvero vogliamo andare a traino in Europa di altre nazioni o vogliamo giocare da protagonisti come possiamo esserlo e sederci al tavolo poi dei grandi perché attenzione qui il rischio è di subire le scelte di altri quando in realtà noi siamo stati pionieri siamo pionieri o l'alternativa è essere protagonisti di una transizione ecologica che sia al contempo equa sostenibile e giusta e l'Italia scusate la fusione in tutto ciò per l'Italia è una grande risorsa è una grande opportunità e allora voglio dire qualcuno potrebbe magari commentare un po' ironicamente ma davvero pensi che possiamo competere con giganti come USA e Cina beh chiaramente non è velleitario beh la risposta è sì oggi sì e qui il made in Italy su questo settore della fusione è competitivo ovviamente non in termini di risorse assolute il nostro prototipo interno lordo non è quello degli Stati Uniti neppure quello di Cina ma in termini di conoscenza esperienza potenzialità che nell'alta tecnologia contano moltissimo finisco da dove ho chiuso da dove ho iniziato la pila di Fermi un uomo ha inventato la pila ebbene tutto ciò conta moltissimo e quindi se posso fare davvero un auspicio io credo che degli finanziamenti accresciuti mirati naturalmente delle eleanze strategiche possono far fiorire nuove idee e potenziare i nostri programmi e quindi io davvero auspico che insieme possiamo costruire un programma nazionale che valorizzi il made in Italy che sia centrato intorno a DTT alla nostra industria Eni ma tante altre che sia catalizzatore degli sforzi pubblici e privati e come anche tante realtà come Padova stessa dimostra sia una rete di formazione e collaborazioni internazionali noi possiamo oggi costruire una grande filiera della fusione la possiamo fare qui a Padova è naturalmente necessario un piano di investimenti a lungo termine per diventare proprietari di tecnologie che potremo poi vendere come diceva l'OIEA l'elettricità è il nuovo petrolio la fusione può essere una grande parte io porto degli occhiali che sono gli occhiali progressivi magari probabilmente alcuni di voi li useranno voi sapete che permettono di vedere contemporaneamente sia da distante che di leggere ebbene vorrei che sia chiaro che quanto detto non è un qualcosa che va alle calende greche al 2100 al 2050 al 2030 è qualcosa che certo ha un traguardo come dicevo quello della Net Zero del 2050 ma è qualcosa che ha un impatto oggi delle scelte forti sulla fusione ha un impatto sull'economia oggi sul lavoro oggi sulla formazione oggi sulla crescita di giovani di artigiani della nostra industria e quindi io credo che sia davvero importante liberarci anche da tante incompressioni del passato e lavorare insieme chiudo con una citazione di un fisico molto importante un premio Nobel si chiama Isidore Rabi lui nel 1944 vince il premio Nobel per il principio della risonanza magnetica nucleare che verrà poi applicato negli ospedali nel 34 lui era professore a Columbia University di New York viene a sapere dei risultati dei fermi in via Pannisperna qui a poche centinaia di metri risultati davvero rivoluzionari per l'epoca Isidore Rabi commenta ora dovremmo tutti imparare l'italiano ecco io davvero faccio mio questa frase e l'auspicio che davvero la comunità scientifica economica e finanziaria della fusione presto impari tutta l'italiano signor Presidente signore senatrice e senatori grazie grazie professor Martin per quello che ci ha detto domanda a colleghi se ci sono colleghi che vogliono fare delle domande prego senatore Trevisi sì grazie sì dicevo prima magari avessimo la fusione nucleare disponibile oggi sarebbe veramente un passo enorme per avere energia pulita ed energia sostenibile senza tutti ce lo auguriamo non c'è forza politica che non vuole questo che non vuole magari incentivare la ricerca nel settore però purtroppo i tempi non sono di un anno o due ma si parla comunque di alcuni decenni quindi questo è il problema di fondo noi dovremmo capire oggi cosa possiamo fare restando sempre finanziando quanto più possibile la ricerca ecco perché è vero che io condivido la neutralità tecnologica per carità il nucleare sicuramente non è alternativo alle rinnovabili però al momento diciamo il nucleare ha una forte funzione base load nella curva dei carichi quindi serve a fare l'energia come gli impianti grossi termolezzi c'è il carbone l'energia di base poi ci sono fonti di energia che rivesteranno comunque un ruolo voi non vuoi per la loro capacità di seguire i picchi i carichi in energia come il gas naturale con le centrali turbo perché hanno proprio queste proprietà poi serviranno gli accumuli di vari tipi ma servirà soprattutto oggi un massiccio investimento verso le fonti rinnovabili che è l'unica tecnologia nonché al momento la più competitiva dal punto di vista economico che è più competitiva delle rinnovabili economicamente non ne abbiamo e poi si dovrà trovare il modo per rendere questa energia da non programmabile a programmabile potenziando gli accumuli è normale che noi dobbiamo vedere quello che sarà domani ma dovremmo oggi perché i problemi sono attuali agire quanto prima in termini di indipendenza energetica quindi benvenga la fusione nucleare diversa la fissione ma non perché si è contrari alla fissione nucleare però avete visto tutti che quando si è aperto questo bando per il deposito nucleare non c'è comune che che ha voluto ospitarlo non c'è stata una canna c'è andato c'è stato un comune chi è stato? si dove c'è l'esito ah vabbè a parte Trin si è ritirato? l'hanno ucciso diciamo vabbè c'era un comune dove aveva già si ho anche delle constatazioni che poi portano alla domanda quindi il quadro attuale è questo ecco perché io credo che è giusto pensare al sistema energetico del futuro però dovremmo anche capire oggi come muoverci io credo che è imprescindibile un massiccio finanziamento che direbbe secondo me un nuovo PNRR europeo a favore della transizione energetica perché come l'Europa chiede degli obiettivi nuovi anche l'Europa si deve far carico di Eurobond per finanziare questa nuova impellente urgenza secondo me quindi io credo che oggi non c'è strada alternativa ben venga la fusione quando sarà pronta però l'unica soluzione credo che sia investire massicciamente sulle rinnovabili penso che lei anche lo condivida come pensiero grazie io credo che però è giusto questo siamo qui per capire dibattere bene comprendere bene che cosa è la fusione siamo tutti convinti che nell'immediato dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più quelle che sono rinnovabili che in tutti i casi anche nel futuro dovranno coesistere perché verranno migliorate insieme eventuale realizzazione di una fusione ma siamo qui per parlare di fusione proprio per cercare di capire bene che cosa è la fusione e poter da parte nostra spingere anche eventualmente il nostro paese a far sì che l'orgoglio che ce n'ha parlato qui il professor Martin che è italiano rispetto a questo possa avere la possibilità di fare qualcosa anche in questo paese essere noi attori principali e non inseguire altri su studi che hanno fatto sono stati fatti in questo paese un po' questo è il tema il tema è importante non parliamo di quello che dobbiamo fare quello che dobbiamo fare lo sappiamo c'è la situazione attuale che la stiamo vivendo in maniera diversa e che dovrebbe essere sempre migliorata ma dobbiamo anche sapere organizzare il futuro se il futuro noi non lo organizziamo attraverso una conoscenza dei problemi e attraverso anche interventi legislativi che favoriscono questi processi noi non ci arriveremo a questi processi e staremo di dagli altri questo è un po' il tema nostro ma parliamo di fusione prego senatore prego professore grazie grazie ringrazio ringrazio per il suo intervento allora io volevo tornare un attimo all'analogia un po' scherzosa ma in realtà molto seria che ho fatto a degli occhiali lei ha certamente ragione a dire che dobbiamo vedere oggi e anche domani cioè il punto che io volevo fare era esattamente questo noi abbiamo bisogno di soluzioni che traguardino il 2050 e che siano già oggi efficaci ebbene mi è chiaro ovviamente che la fusione non è disponibile oggi ma mi è altrettanto chiaro che la fusione può diventare un grande protagonista nel medio termine e allora così come dicevo prima la fusione ha questa a mio giudizio grande vantaggio di permetterci oggi di guardare sia a medio termine sia a breve termine perché investire oggi sulla fusione vuol dire investire su tecnologie vuol dire investire su industria vuol dire lasciatemi usare una parola investire sul made in Italy in senso ampio industriale formativo scientifico che ha ricadute oggi oggi non fra vent'anni o trent'anni questo secondo me è davvero importante e che ci porta ad avere in portafoglio poi anche come il presidente diceva la possibilità di disporre di costruire da oggi delle tecnologie che un domani il nostro paese potrà in senso lato vendere che è fondamentale e da questo punto di vista secondo me è tanto importante anche perché lei ha usato il termine indipendenza energetica ma a mio modesto parere pensare a un'indipendenza energetica nazionale è molto complicato perché ormai le reti sono estremamente interconnesse noi credo dovremmo ragionare almeno come Europa cioè come come protagonisti europei entrare in un mercato globale da questo punto di vista credo che la fusione possa aiutare e di nuovo vorrei ancora una volta dire che credo che nessuno nella nostra comunità sia contro io davvero vi invito invito tutti a lavorare insieme per non c'è uno contro l'altro abbiamo tutti chiari scadenze temporali sappiamo cosa viene prima cosa viene dopo ma dopo il 2050 ci sarà il 2051 2052 abbiamo il dovere di pensare anche a chi sarà in quegli anni grazie ringraziamo il professore Martini per quello che ci ha esposto e quindi lo concediamo e noi ci dediamo la nostra seduta bene torniamo ora alle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare per il consiglio nazionale delle ricerche è presente il dottor Stefano Fabris direttore del dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia ringrazio il nostro ospite e gli cedo subito la parola prego buongiorno a tutti e grazie presidente per l'invito a relazionare a questa assemblea a questa commissione il consiglio nazionale delle ricerche come sapete è il più grande ente pubblico di ricerca del paese e ha come dire una consolidata tradizione nel settore della fusione nucleare contribuisce con attività di ricerca scientifica ricerca tecnologica attività che si svolgono principalmente nell'ambito del dipartimento scienze fisiche e tecnologie della materia che ho l'onore di dirigere allora vorrei iniziare questa relazione si vorrei iniziare questa relazione partendo da una notizia che forse avete letto sulla stampa a fine ottobre dello scorso anno è stato raggiunto il nuovo record mondiale di energia prodotta da una reazione di fusione nucleare allora questo è stato fatto durante una campagna sperimentale svolta verso l'infrastruttura europea denominata JET Joint European Torus e questo esperimento questo record ha dimostrato definitivamente le potenzialità dell'utilizzo del combustibile deuterio trizio perché è importante è importante perché questa miscela è la miscela di combustibile che è alla base del funzionamento delle future macchine ITER in particolare ma anche della macchina che si costruirà dopo ITER denominata DEMO e l'obiettivo di DEMO è proprio la dimostrazione scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia pulita sicura e diciamo virtualmente inesauribile quello che volevo osservare in questa introduzione è che questo campo questo panorama internazionale sta evolvendo molto rapidamente il settore della fusione ha recentemente registrato un'accelerazione non solo grazie al raggiungimento di questi obiettivi come il record di cui ho parlato poc'anzi ma ma anche grazie all'impulso che viene da nuovi attori sia privati che pubblici che manifestano un forte interesse anche di natura commerciale in questo settore allora come si posiziona l'Italia in questo settore allora l'Italia ha costruito nel corso degli ultimi 60 anni un percorso che l'ha portata a emergere come protagonista a livello globale è senz'altro un punto di riferimento per la ricerca scientifica e per lo sviluppo tecnologico allora questa posizione di leadership come dicevo è stata raggiunta proprio grazie a una pluridecennale collaborazione nell'ambito della ricerca pubblica tra gli enti pubblici di ricerca naturalmente il CNR ma ovviamente l'Enea i suoi partner principali Enea c'è proprio c'è proprio un ecosistema di ricerca pubblica e non solo grazie a questo ma una collaborazione che tra questo sistema di ricerca pubblico si è costruita nel contesto di partenariati pubblico privati uno di questi è il consorzio RFX che dirò tra poco di cui sono il vicepresidente l'altro esempio estremamente importante è la SCAL DTT di cui c'è già stata una relazione in questa sede e proprio grazie a queste come dire grazie a queste collaborazioni che coinvolgono poi a incascata anche soggetti industriali molto importanti come EMI o come Acceierie Venete diciamo la competenza di queste realtà imprenditoriali il nostro paese è diventato un attore chiave nella realizzazione della maggior parte dei componenti di questi grandi esperimenti come ITER sottolineo che con queste che l'industria italiana ha ricevuto commesse europee per quasi 2 miliardi di euro solo su ITER allora nonostante questi recenti sviluppi e successi entrambi gli approcci che sono disponibili per confinare il plasma ormai lo sapete ho visto che avete assistito a diverse presentazioni sul tema quindi il confinamento del plasma sia magnetico che inerziale ci sono al momento delle sfide scientifiche e tecnologiche estremamente limitanti così complesse che non possono essere risolte da un soggetto o da un insieme di soggetti nazionali quindi possono essere affrontate solo tramite un approccio basato su collaborazioni internazionali e di questo ti parlerò tra poco allora quello che volevo sottolineare ancora in fase di introduzione è che anche qui c'è un cambio culturale di modello e questo avviene nell'ambito della comunità internazionale quindi si sta passando da un modello in cui la ricerca pubblica aveva un ruolo centrale che è stata la tradizione finora a un modello in cui i soggetti principali sono delle partnership pubblico private e questo mira promuovere un maggior coinvolgimento del settore privato che è essenziale allora come dimostrerò a breve l'Italia anche tramite il CNR ha in qualche modo conquistato una posizione favorevole anche in questo nuovo modello di funzionamento del campo però nel contesto di questa transizione volevo anche come dire mettere in guardia il sistema su possibili punti critici su cui prestare attenzione uno di questi è la proprietà intellettuale quindi penso sia importante tutelare la proprietà intellettuale che è stata costruita con la ricerca pubblica e questo non solo in Italia ma in Europa quindi da rappresentante di un ente pubblico di ricerca penso sia importante che questo percorso in cui i privati accompagneranno la ricerca nell'ambito della fusione venga impostato fin dall'inizio in maniera da non perdere le competenze e le realtà che abbiamo costruito allora qual è il ruolo del CNR cioè qual è la strategia in questo settore e come si collega con la roadmap globale che ho appena accennato allora il CNR è attivamente impegnato nella ricerca della fusione ormai da più di 60 anni e questo avviene in collaborazione con il gruppo di partner che ho introdotto poc'anzi grazie a questa sinergia il CNR contribuisce a determinare le politiche strategiche dei maggiori programmi internazionali e partecipa alla realizzazione dei maggiori progetti in questo campo mettendo a disposizione personale competenze e soprattutto infrastrutture il settore che vede maggiormente coinvolto il CNR è quella della fusione termonucleare controllata a confinamento magnetico principalmente tramite l'istituto scienze e tecnologia dei plasmi che ha sede a Milano e opera in tante altre sedi tra cui Padova l'ente riversa però un ruolo altrettanto importante anche nel settore della fusione inerziale e questo avviene tramite principalmente un altro istituto che è l'istituto nazionale di ottica questo è perché i laser di potenza sono molto importanti per il confinamento magnetico allora qual è la strategia quindi dicevo come grande ente pubblico di ricerca CNR sviluppa una politica ampia che si sviluppa essenzialmente su tre pilastri che sono quelli che mostro lì quindi un solido programma di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico una forte connessione con i programmi internazionali e una forte competenza nel campo delle infrastrutture di ricerca che vengono messe a disposizione di questi programmi internazionali e infine non so quanto questo punto sia stato evidenziato dalle precedenti relazioni una radicata esperienza nella formazione dei giovani nell'attrarre e nel tenere giovani e questo è forse uno dei punti critici su cui dovremmo prestare molta attenzione e su cui come dire dovremmo operare di nuovo come sistema nel settore del confinamento magnetico Eurofusion e tutta la comunità internazionale ha identificato otto pillars otto sfide campi sfidanti che attualmente limitano il progresso e lo sviluppo dello sfruttamento delle energie da fusione il CNR ha scelto di concentrarsi su cinque di questi otto pillars il primo è la scienza del plasma cioè i regimi di operazione del plasma il plasma è questo stato della materia in cui si sviluppa poi la reazione nucleare e questo stato della materia presenta fenomeni molto ricchi e molto complessi e quindi lo studio dei plasmi è un elemento che sta alla base in qualche modo per comprendere poi l'utilizzo di questo medium ed è uno dei tempi principali delle ricerche del CNR studiamo in questo contesto diversi processi fisici che si verificano nei plasmi nei plasmi applicati al TOCAMAC che è questa geometria di confinamento l'interazione dei plasmi con la radiazione elettromagnetica il controllo dei plasmi nel confinamento toroidale sia esperti c'è esperienza nel campo della fisica e dell'ingegneria delle macchine proprio per costruire detector o sistemi che poi riscaldano il plasma oppure lo mantengono nelle condizioni operative ma anche in tutto quanto riguarda la realizzazione degli impianti per la diagnostica l'altro elemento estremamente importante è l'estrazione del calore allora cosa succede in una reazione in un sistema come quello del record bisogna fornire dell'energia per mantenere il plasma alle temperature necessarie affinché la reazione si realizzi e le temperature in gioco sono estremamente alte si parla di centinaia di milioni di gradi tutta questa energia viene poi concentrata in una regione molto ristretta della camera a vuoto che si chiama divertore allora questo divertore è evidentemente sottoposto a dei carichi termici non indifferenti dell'ordine delle decine di megawatt per metro quadro questo naturalmente è un elemento sensibile e la ricerca del CNR mira a identificare materiali geometrie che permettano a questo sistema non solo di sopportare il calore ma di essere efficiente nell'estrarre anche i prodotti della fusione che non devono contaminare o danneggiare il sistema delle pareti e questo mi porta al terzo elemento critico che sono i materiali l'interazione tra il plasma che è estremamente caldo come abbiamo detto e la parete è ovviamente critica stiamo parlando forse è una delle questioni più critiche per quanto riguarda le prestazioni la sicurezza e la disponibilità poi di questi futuri reattori a fusione il CNR è impegnato nell'identificare e testare nuovi materiali per ricoprire le pareti della camera a vuoto che siano resistenti alle condizioni della fusione nuovi acciai nuovi materiali a base di tungsteno tutte cose che bisogna in qualche modo testare e sintetizzare e provare in condizioni operative fenomeni che prendiamo in considerazione in questo contesto sono l'erosione l'interazione della polvere di reazione con i materiali esposti al plasma l'erosione la diffusione superficiali tutto un set di chimica fisica diciamo delle superfici ma anche la ritenzione del combustibile che poi circola nel plasma e la resistenza ai neutroni che si sviluppano durante la reazione gli altri due come dire sono riguardano più il futuro il primo è una partecipazione molto attiva alla progettazione del reattore prototipo demo quello che fornirà diciamo la dimostrazione che è possibile generare energia elettrica e indagini socio-economiche sulla produzione di energia elettrica anche con ruoli di coordinamento sulla transizione che sarà necessario governare i costi di energia elettrica da un sistema tradizionale a un sistema diciamo che ha eliminato completamente le energie fossili anche sulla base di modelli allora vorrei anche evidenziare l'importanza di una tematica che è trasversale che è importante su tutti questi aspetti che è la simulazione e la modellizzazione queste sono ormai tematiche ampiamente riconosciute come un requisito essenziale per il successo della missione dell'energia e questo si interseca con la nuova disponibilità anche a livello europeo di sistemi di calcolo di stanza internazionale l'Italia ospita uno dei calcolatori di supercalcolo più potenti al mondo si chiama Leonardo unito alle algoritmi di intelligenza artificiale e questi come dire forniscono tutti elementi molto importanti per lo sviluppo di codici numerici per le ricerche della teoria fondamentale dei plasmi per lo sviluppo dei metodi di controllo per l'interpretazione dei dati sperimentali solo una slide per menzionare che effettivamente siamo attivi anche sul confinamento inerziale come dicevo presso il laboratorio dell'Istituto Nazionale di Ottica e qui la ricerca è centrata soprattutto sullo studio dell'interazione laser plasma sull'accelerazione del plasma con l'utilizzo di laser di potenza e sull'interazione laser materiali avanzati questo è particolare molto importante per diciamo le pastiglie di combustibile come dicevo l'altro elemento caratterizzante riguarda la partecipazione il ruolo la conduzione nel contesto dei grandi progetti collaborativi internazionali il CNR opera nei programmi europei sin dal 72 in quest'anno è stato contratto è stato stipulato il primo accordo di cooperazione con Euratom adesso è la collaborazione con Euratom e la Nuita Enea partecipa Eurofusion il consorzio di laboratori europei che coordina la ricerca sulla fusione in tutti i programmi europei questo significa ITER essenzialmente campagne esperimentali su JET campagne esperimentali sul grande esperimento Tokamat JT60 Super Advanced che ha avuto la prima iniezione lo scorso anno a dicembre a cui abbiamo tutti partecipato inoltre gli studi di fattibilità di demo naturalmente il CNR riceve inoltre contratti per progetti e realizzazione di componenti sia da Fusion for Energy l'agenzia europea per la costruzione di ITER sia da ITER direttamente questo mi porta alle infrastrutture di ricerca come dicevo c'è una fortissima tradizione non solo nel campo della fusione all'interno del CNR nell'ambito delle infrastrutture di ricerca e la fusione ne è una manifestazione questo è un esempio vedete a Milano c'è una macchina lineare GIM da studi di interazione plasma materiali qui si mettono le piastrelle che poi si vogliono testare per capire le proprietà meccaniche di resistenza chimica superficiale e quant'altro e si espongono al plasma però in generale questo viene viene svolto nel contesto di grandi non grandissime insomma a livello nazionale partnership pubblico e private quelle che ho anticipato precedentemente la principale per noi CNR è RFX io sono il vicepresidente di RFX vi invito come suggerimento anche a considerare di sentire in un'audizione simile il consorzio di per sé io oggi solo presento alcuni punti critici però vi invito anche a vedere perché adesso quello che illustrerò in qualche modo è sorprendente quindi cos'è RFX RFX è un consorzio che vede la partecipazione di CNR di NEA di NFN dell'Università di Padova e di Aceglieri Venete viene la sede è ospitata nell'area della ricerca del CNR a Padova ed è basato le attività sono basate essenzialmente su due siti il primo ospita la macchina a confinamento magnetico toroidale RFX questo è una panoramica di questa macchina è un percorso che è iniziato negli anni 70 RFX è giunta ormai al terzo upgrade ed è la più grande macchina al mondo nel suo genere è basata su una configurazione di confinamento magnetica che è alternativa al più studiato Tokamak ma che ha delle valenze come dire di ricerca scientifica di studio che poi si applicano ai sistemi Tokamak di stile Peter ed altri quello che è importante è che nel 2021 RFX è stata inserita nella lista delle infrastrutture di ricerca ad alta priorità del PNIR e questo è stato importante perché ha permesso al CNR di proporre un progetto del PNRR per l'upgrade ulteriore di questa macchina il progetto è stato finanziato e grazie al quale stiamo lavorando per aumentare ulteriormente le potenzialità di questa macchina e il progetto vede la partecipazione non solo del CNR ma anche dell'Università di Padova e della Federico II l'altro blocco l'altro blocco all'interno dell'Università di Padova ospita le attività che il Consorzio svolge nell'ambito di ITER questo è un contributo importantissimo che il Paese dà al progetto ITER veramente qui si costruiscono dei componenti che sono gli unici componenti di ITER costruiti fuori dalla Francia in particolare è la cosiddetta Neutral Beam Test Facility NBTF viene realizzata RFX in questo capannone ed è un'infrastruttura di ricerca per lo sviluppo essenzialmente sviluppa gli iniettori di particelle neutre che verranno poi riscaldate all'interno del plasma di ITER e le prestazioni di questa macchina in fase di costruzione non sono mai state raggiunte quindi è veramente una grande infrastruttura di ricerca al limite e alla frontiera allora dentro e ne si è una cosa a cui volevo citare il direttore Barabaschi nell'ambito della visita che è stata fatta dal presidente del CNR Mare Chiara Carrozza proprio il direttore Barabaschi ha manifestato l'importanza di questa infrastruttura in costruzione in Italia dicendo non c'è NBTF senza ITER evidente ma non c'è ITER senza NBTF poi come dire stiamo costruendo il cuore uno dei cuori degli organi importanti dell'infrastruttura europea NBTF ospita due grandi macchine separate la prima è SPIDE che è entrata in funzione nel 2018 ed è essenzialmente sviluppa la sorgente di ioni di idrogeno e di deuterio che una volta estratti poi possono essere accelerati fino al valore di energia richiesta questo è solo per darvi un'idea delle dimensioni come motivazione a venire a trovarci a Padova l'altra è mitica che è il prototipo degli iniettori che verranno poi installati in ITER se funziona la stessa macchina viene riprodotta e ricostruita su ITER e questa viene tenuta in Italia per testing per diciamo invece del gemello digitale c'è il gemello fisico questa sorgente di ioni negative è simile in qualche modo a quella di SPIDER ma è accoppiata a un sistema di accelerazione molto più potente che porta non solo genera gli ioni ma porta tramite dei sistemi di accelerazione elettrostatica questi ioni fino a 1 megavolt che penso di avere questa è la cabina elettrica che è totalmente isolata da 1 megavolt per un totale di 40 megawatt di potenza sempre nell'abito delle partnership pubbliche e private CNR socio di DTT su cui è stato ampliamente discusso quello che vorrei stottolineare nuovamente è che DTT è come dire forse uno dei migliori esempi di partenariato pubblico privato nell'ambito globale della fusione un altro esempio in questo contesto è il Joint Research Agreement era CNR ed ENI questo è stato firmato nel 2019 l'accordo prevede la costituzione di un centro di ricerca dedicato a NCNR nel sito di Gela infine torno sul punto della formazione mantenere la leadership globale nella scienza nelle tecnologie negli impianti della fusione richiede come dire una particolare attenzione nell'ambito delle collaborazioni a creare un percorso una pipeline di personale che parte dai dai tesisti passa dai dottorandi di ricerca passa ai ricercatori postdoc passa poi ai ricercatori ma include anche tecnici tutte queste grandi sfide richiedono personale richiedono personale formato e questo è come dire è un punto su cui l'Italia dovrebbe fare un discorso molto molto specifico in questo contesto il CNR ha sviluppato solite competenze in ambito sperimentale teorico e numerico e c'è una forte tradizione di ospitare studenti ricercatori e poi reclutare il personale giovane che poi viene formato all'interno dei laboratori volevo far notare che i percorsi di post dottorato poi di dottorato sono fondamentali a Padova c'è stato il primo percorso di dottorato dedicato agli studi della fusione quindi io concludo questo intervento mostrando nuovamente l'area della ricerca del CNR a Padova è un'esperienza importante vedere di persona questi strumenti perché fa capire quanto l'Italia sia l'avanguardia e sia protagonista in questa grande sfida che è la fusione nucleare grazie la ringraziamo molto so che noi purtroppo abbiamo tempo contingentato per l'aula io magari lascio soltanto se poi poteste farci avere una vostra valutazione poiché appunto al di laura dei ricercatori che nei diversi anni si sono sosseguiti ma CNR come ci ha ricordato da decenni su questo tema una valutazione se soprattutto sulla ricerca dei materiali che è una delle sfide ingegneristiche più complesse da come abbiamo appreso in queste audizioni se ci stiamo avvicinando se finalmente possiamo dire non che è vicino ma che c'è un'accelerazione tale per cui stiamo passando dalla ricerca a realmente la possibilità di vedere dopo Iter e Demo una industrializzazione diciamo prima della fine del secolo questo lo so che non è scientificamente corretto chiederlo però l'idea che ci sia una percezione di un avvicinamento anche a una fase che può passare dalla ricerca all'industrializzazione se è qualcosa che vi sentite appunto di confermare rispetto all'evoluzione che avete avuto in questi decenni di ricerca scolo Grazie.